Allora, mi chiamo Guy De Vreux, siamo nel laboratorio Restauro Marmi dei Musei Vaticani, che è il luogo in cui vengono restaurate tutte le opere materiale lapideo dei Musei Vaticani e del Vaticano in genere. Chiaramente la nostra esperienza è condivisa con altri laboratori dello stesso museo, ma soprattutto con il laboratorio scientifico, grazie al quale e con il quale stiamo facendo passi da gigante nel campo della conservazione di questo materiale che era un po' considerato di seconda scelta in passato. Detto questo, mi avete chiesto se facciamo delle copie. Sì, questo è il laboratorio dove facciamo le copie, perché molto spesso le altre istituzioni, noi lavoriamo esclusivamente per altre istituzioni a livello di questa, ci chiedono delle copie per ragioni scientifiche, per sostituire degli originali. Sì, questo è il laboratorio dove facciamo le copie, perché molto spesso le copie per ragioni scientifiche,